Mentre D'Andrea ci si arrovella ancora sulla figura del Presidente del Consiglio da individuare per poter varare in conseguenza degli equilibri creati la giunta del Sindaco Bruno, accorato la squadra del Sindaco Corrado De Benedittis sarebbe pronta e potrebbe essere annunciata sabato. A sorpresa comprenderebbe un andriese in qualità di assessore tecnico. Si tratta dell'architetto Vincenzo Sinisi, già Presidente dell'Ordine degli Architetti di Bari e già assessore del Comune di Andrea con l'elezione di Vincenzo Zaccaro nel 2005. Anche nella città di Corato avrebbe la delega ai lavori pubblici. Sinisi è l'unico tecnico della giunta di De Benedittis che ha scelto però due profili di aria per le deleghe sui cui punta maggiormente per il lancio della città. È un'esperta di marketing territoriale e di internazionalizzazione dei prodotti la dottoressa Federica Bonsante che va alle politiche giovanili. Con i suoi 32 anni è la più giovane della giunta del sindaco, che ha scelto un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze come assessore al bilancio, al personale e ai progetti strategici e ai fondi europei. Le indicazioni politiche sono invece per il sociologo Felice Addario che va alle politiche sociali in quota PD, come l'avvocato Concetta Bucci che dovrebbe andare alle attività produttive. Due anche gli assessori espressi dal movimento Demos, l'architetto Antonella Varesano che riceverà la delega all'urbanistica, mentre Beniamino Marcone, ragioniere bancario, ricoprirà il ruolo di assessore all'istruzione, alla cultura e allo sport, nonché la carica di vice sindaco. Per ora nessuna indicazione è stata fatta per la presidenza del Consiglio Comunale. Il nodo potrebbe essere sciolto già in occasione della presentazione della giunta che dovrebbe arrivare entro la settimana.